Il Canavese e le sue bellezze saranno protagonisti tra settembre e ottobre di Andar per Castelli, che nell'edizione 2017 ha per tema Trovatori e Amor Cortese. Evento itinerante organizzato e promosso dall'Associazione Nati per Sorridere, in quattro tappe a distanza di 15 giorni, una dall'altra, darà l'opportunità di entrare in fantastici Castelli del Canavese e nella magica suggestione degli ambienti si potrà visitare il castello, visitare la mostra di incisioni e di segni d'arte a tema, assistere a una divulgazione sulla storia, assistere a uno spettacolo e assaporare specialità enogastronomiche e espressione del Canavese. La vicepresidente del Consiglio regionale Daniela Ruffino è la madrina della manifestazione. Andar per Castelli 2017, un percorso tra le bellezze del Canavese, tra enogastronomia, musica e tradizioni? Sicuramente, bellezze che devono determinare il futuro del Canavese, un grande impegno da parte delle associazioni, debbo dire anche da parte del Consiglio regionale, ospitando proprio in questi spazi la conferenza stampa. Una scommessa che sarà vincente, la disponibilità delle proprietà a mettere a disposizione i Castelli, ma ad esempio il tema della strada dei vini che unisce i comuni, che valorizza un prodotto importante ad esempio come l'erbaluce di Caluso. Direi da un lato la perdita dell'industria del Canavese, dall'altro lato sicuramente una nuova vita per il Canavese.